Un premio fa sempre piacere, immagino che poi l'Elsa Morante che è un signor premio inorgoglisca anche uno come lei. Certo, mi inorgoglisce molto ma soprattutto mi dà la gioia di vedere che una provocazione al dialogo viene così autorevolmente raccolta perché io credo che soltanto quando noi stabiliamo uno scambio schietto di idee si riesca a costruire da capo un mondo che sembra ormai stia crollando. Quanta carenza di cultura c'è nel nostro paese? Molta, beh molta soprattutto perché cultura non significa necessariamente il lavoro di chi scrive libri, di chi pensa, di chi architetta, di chi insegna. La cultura è quel modo di vivere, quello stile di vivere che accompagna la gran parte degli uomini. Soprattutto quelli che sono potenti dovrebbero dare esempio di cultura in questo senso che è universale e non soltanto dei pochi che hanno professione di alto livello. Grazie. 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 Grazie.